Temperature di nuovo oltre lo zero in quasi tutto il territorio dopo la breve tregua dello scorso fine settimana. Ieri mattina infatti la neve è caduta nuovamente in quasi tutti i comuni montani e collinari del comprensorio cilentano. Il freddo di questi giorni e in particolare della giornata di ieri non ha risparmiato neanche le località balneari della costa. Infatti gli abitanti di Castellabate, di Palinuro, di Ascea e di diversi comuni lungo la costa si sono svegliati con le spiagge e i litorali completamente bianchi, immagini che hanno incantato l'intero territorio. Il contrasto dei chicchi di ghiaccio e il mare ha stupito e richiamato la curiosità di tantissime persone che con scatti e selfie hanno immortalato il paesaggio. Le foto sono diventate subito virali e hanno fatto il giro del web. A causa del freddo però ancora scuole chiuse per diversi comuni nel ballo di Viano colpito maggiormente dalle basse temperature i sindaci hanno disposto la chiusura dei plessi di ogni ordine e grado. Chiuse le scuole a Sassano, San Pietro Altanagro, Sala Consilina, Casalbuono, Polla, Monte San Giacomo, Sant'Arsenio e Padula. Mentre a Montesano sulla Marcellana e Teggiano le scuole resteranno chiuse anche domani, martedì 17 gennaio. Chiuse tutte le scuole di Castelnuovo Cilento, la ludoteca comunale, le due scuole materne e primarie, la scuola media e l'istituto Anselchis. Scuole chiuse anche a Caselle in Pittari, i plessi scolastici di Laurito, l'istituto comprensivo Laurito Alfano Rofrano Monte Antilia, scuole chiuse anche a Vallo della Lucania.